Ciao a tutti ragazzi, sono il mio cugino di Super Master 3000 e gli ho trovato lo scheletro in oro, ovviamente, perché sono il pro player, la fortuna, negli altri account e adesso faremo un gameplay e ovviamente vincerò comunque vi vorrei farvi vedere in che condizioni ho avuto oh mamma mia, basta ridere si ma sto qua mi spinge oh mamma mia oh che fortuna ragazzi, sono troppo forte ditegli qualcosa da sotto nei commenti ma come fai? non ce la fai? con questi commenti voglio vedere cercheremo di rispondere a tutti i commenti più presto poi perché qualcuno non lo fa veramente easy qualifica questo qua se ne vuole andare ovviamente abbiamo degli attrezzi super avanzati qua tipo il ventilatore il cubo di rubik un pinguino e la tosse e mi dimenticavo un altro ventilatore che fa un rumore bellissimo questo è un ventilatore secondo round questo è easy e... vincerà comunque sono troppo morto guardate ragazzi easy si passa salto salto beh sono un pirla beh sono un altro pirla si va avanti dai 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 che ce la si fa dai andate doppio salto e si salta doppio salto oh oh doppio salto incredibile quanto sono forti quanto sono forti quanto sono forti oh super master comunque per un prossimo video insieme a me ovvero il cugino di si prova 3.000 voglio 10 commenti è 609 ragazzi ci si prova oh l'ho masterata l'ho masterata ragazzi io l'ho masterata dai comunque io non sapevo che ci fosse il pugno qua perché secondo me l'account di super master non sapevo che ci fosse il pugno ma che dico let's go oh no ma cosa è successo non è possibile non è possibile neanche vince neanche vince eh non è vero non ve lo faccio vedere what sarà un segreto ciao a tutti